Facciamo fatica e anche quando entra, entra quasi sempre il braccio destro, entra sopra il sinistro. Noi dobbiamo cercare, adesso andiamo la mano continental, bravo, ok, allargando bene, qua anche voglio allargare bene, in maniera che sentire che questo dito deve essere quello che fa passare la punta della racchetta, ok? E dobbiamo entrare in questo modo, con il braccio sinistro che va sopra il destro. Prova a farne uno o due, vai, fai tutto il movimento, bravo, normale.